Onorevole distante Ministro e anche colleghi Presidente, mi sembra che le associazioni dell'onorevole Meliconicone siano condivisibili rispetto alla delusione della mancata risposta e speriamo che sia veloce, ma mi pare che molte cose sono risolte da tempo con le università telematiche e quindi ci danno la possibilità di seguire corsi a distanza, sia pure con i limiti indicati rispetto ai finanziamenti. Vi sono però discipline che presuppongono il Magistero del Docente e la sua presenza, non soltanto sul piano di una formazione etica e di un rapporto diretto e personale, che può anche temporaneamente essere sospeso per ragioni di difficoltà materiali o di impossibilità come queste, ma musica e arte richiedono un contatto diretto. Chiedo quindi particolare attenzione per i conservatori e le accademie che rientrano nelle sue competenze e ricordo che alcune accademie, alcuni conservatori attendono la nomina di un Presidente per avere il funzionamento minimo del Consiglio d'Amministrazione e quindi la possibilità di far partire alcune cose quando, presumo ormai in settembre, potrà ripartire quella attività che presuppone un rapporto diretto con il docente e una fisicità rispetto agli strumenti musicali e alle opere d'arte e alla pittura, alla scultura, alla scenografia. Per cui su questo le raccomando di essere celere nello stabilire le nomine rispetto alle terne che sono state indicate da alcune accademie e conservatori. Poi, tornando a citare il sottosanitario Martella, mi chiedo quale posizione, visto che l'insegnamento non può non avere risvolti anche di natura etica rispetto a dei valori di libertà. L'insegnamento di Giordano Bruno ci indica una eresia. Ora, è tollerabile dal Ministero dell'Università che vi sia un sottosegretario che inventa commissioni per mettere all'indice supposte fake news quando i medici stessi non hanno certezze da darci e il principio vichiano verum ipsum factum può darsi solo se il fatto è certo. Non c'è certo nulla rispetto al virus e i primi a creare confusione sono stati molti virologi. Non possono diventare i padroni del Paese. Quindi una commissione in cui qualcuno stabilisca cosa è vero e cosa è falso può esserci soltanto se c'è una certezza che non abbiamo. Vi chiedo dunque di avere chiarimenti rispetto a personalità come Riccardo Luna, Francesco Piccinini, David Puente, Ruben Razzante, Luisa Verdoliva, Roberta Villa, Giovanni Zagni e Fabiana Zollo che sarebbero i grandi inquisitori delle verità che ognuno di noi può esprimere e l'Università dovrebbe garantire che ognuno potesse esprimere nella libertà del pensiero che è fondamentale per la democrazia e per la trasmissione del sapere. Quindi se il Ministero dell'Università non intende pronunciarsi su questa grottesca iniziativa di censura di opinioni passata per censura di falsità chiedo che il Ministro se ne occupi e valuti se contrastare questa insensata presa di posizione che peraltro è della Presidenza del Consiglio assunta dal Stato Salerno Martella perché non abbiamo verità certe neppure dagli scienziati e non possiamo prenderli né per oracoli né per sacerdoti né per titolari di un potere politico che non hanno. La libertà di pensiero, anche la libertà di essere eretici va garantita altrimenti Pasolini poteva anche essere messo in carcere per quello che ha scritto sul Corriere della Sera per alcuni anni della sua straordinaria attività. Rivendico quella libertà e chiedo a lei di difenderla nella scuola, nell'università impedendo che qualcuno possa censurare la libertà del pensiero.